Di nuovo buongiorno. Continua il nostro viaggio ad est. Oggi ci troviamo al centro della Moldavia e precisamente a Orrei Vecci per visitare il più caratteristico forse monastero della Moldova. Questa chiesa è la casa del Signore, si prega di non parlare. Sono le nove del mattino e vediamo che i monaci non hanno ancora aperto la piccola bistrica. Intanto rimaniamo meravigliati nel vedere come questo piccolo fiume abbia scavato questa depressione a forma di esse, lasciando questa roccia al centro dove sorge il monastero. Qui è il luogo dove si dovrà uscire dalla grotta della piccola bistrica, mentre questo è il monastero. e se vuoi forchi. E si esce da questo lato qua. Ma è chiuso, cavolo, là è tutto chiuso. La storia è un'altra Strenata. Sì, che è un'altra Strenata? Nell'attesa dell'apertura visitiamo il monastero. Il suo nome è un'attesa di un'attesa di un'attesa di un'attesa di un'attesa di un'attesa. Pace e tranquillità. Muerte che dà. Dovi? E qui si esce e non so perché è chiuso, forse l'hanno aperto. E' un tunnel scavato nella roccia e si esce d'altra parte. E' tutto buio? Sì, oddio. Ma se no si può il film. Per favore. Ah no, il paura è vero. Qui si apre il mondo, vedi? Qui si apre il mondo, guarda che spettacolo. Si esce c'è il giardino a strapiombo però. Da dove si vedeva prima. Giardino a strapiombo. Cazzarola. Perfino ha paura di guardare sotto. Nelle fessure si mettono i soldi. Ho trovato un buco. E lo mettiamo qui. E bisogna dire. Un fascia, vacca, rai, accettirezza. Non so che... Sono un po' di frasi da mettere assieme. E dicono che porta fortuna. Potevano mettere anche una protezione. C'era forse. Ma l'hanno tolta. La sicurezza non è dalle migliori. C'era perché... Qui c'è più il brivido. Bello. Il furgone che è la prima scarica. Hanno prima raccolto il fieno nei campi. E ora lo deposito nel tenile. E' aperto mercoledì. Gioibe. Vieners. Veneri. Santata. Sabato. E' domenica. E' proprio latino. Gioi facciamo. Bello. E qui abbiamo uno delle migliaia di pozzi. Vediamo quanto è profondo. C'è l'acqua. 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 l'acqua fresca uno dei primi scinti rupestri della zona è di là del fiume e non si riesce a visitarlo l'acqua fresca uno dei primi scinti rupestri della zona sul navigatore bisogna digitare butuceni e non orei vecchi l'acqua fresca un'acqua fresca un'acqua fresca un'acqua fresca un'acqua fresca un'acqua fresca da qui si può vedere la strana vallata scavata dal fiume un'acqua fresca un'acqua fresca un'acqua fresca un'acqua fresca ma ha detto che era potabile speriamo un'acqua fresca Adesso da qui, per le scale e dalla finestra. Siamo giunti a Cricova per visitare la più grande cantina al mondo. Grazie a tutti. Questi sono i 200 chilometri sotterranei. Quindi si prende il trenino e le visita tutte, in parte almeno. Bisognava aspettare un'oretta per il riempimento del trenino. Noi facciamo una scorta di una decina di bottiglie, sui 5 euro l'una e ce ne andiamo. Una nuova prova pancetta all'erbe. Abbiamo ancora un po' di mozzarella che ci salva. E' pronta la pasta ai fagioli. Che buone la minestra dei fagioli. La pancettina buona, poco sale, ma va bene. Tra un chilometro, svoltare a sinistra, sulla strada metropolitica del Brulesco Botone. Grazie a tutti. E' come in tutte le capitali, anche in un po' di traffico c'è. La pancettina buona, anche in un po' di traffico c'è un po' di traffico c'è un po' di traffico. libero. Siamo nella piazza centrale di Chisinau. Questa è la cattedrale. c'è un battesimo. Anzi, più di uno. Questa è la cattedrale. 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 Chisinau, capitale della Moldavia, conta 640.000 abitanti. Questo è l'argo di trionfo costruito nel 1840, di fronte al Palazzo del Parlamento. Qua c'è la bandiera, non c'è più la bandiera. Carlo, è bestiale. E deve riuscire, eh? La bandiera, non c'è più la bandiera. La bandiera, non c'è più la bandiera. Il municipio di Chisinau. Il municipio di Chisinau. Anche loro hanno l'arba dei carabinieri. Il signore si è fregato il posto in banchina. La banchina nel parco centrale Chisinau. Allora io mi faccio una birra, Chisinau, alla salute. Traffico. Tutti sul filobus. Abbiamo avuto un culo bestiale a parcheggiare qua. Gratis. Nel parco centrale. Però amore. Abbiamo avuto un culo bestiale. Cosa stai facendo la pulizia? 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 E il petro Adam mukachin cane. Cosa stai facendo la pulizia? Cosa stai facendo la pulizia? Cosa stai facendo la pulizia? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' salattino, tipo quello greco. La mattina seguente facciamo visita al mercato centrale. Mercato municipale. Qui arrivano dai paesini di Mitrofi a portare tutti i prodotti della campagna. Abbiamo dei polli appena spennati, formaggi che sono quasi uguali, non sono stagionati. E tanta frutta e verdura. E' un po' salto. 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 Ciprioli a 80 centenze Comodori un euro e vento Ciprioli 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 Le carcasse dei polli, le ali e anche le zampe a 1,50 euro. No, no. Ieri, americane, subito. Queste arringhe sono quelle uova con il doppio torporlo. 15 centetimi. Macelleria. La cerina sono. Poi si sono piccati. Non stai mai avuto la canale, ma ora in forno a freddo. Questa è la canale. Lui, la canale. Questa è la canale. Questa è la canale. Uova di quaglia Uova di memoria è bulla Adè Non capisco Adè Adè, ciao Adè Come va? La statua di Celi Mare L'eroe Moldavo E noi lasciamo la città Nel secondo giorno E vediamo finalmente un camper